Lobotka. Nonostante l'emergenza in attacco, il Napoli ha comunque le idee chiare. Sa come battere il Milan nel doppio confronto valido per un posto tra le prime quattro di Champions League. In vista dell'andata dei quarti di finale ha parlato Stanislav Lobotka. Il regista di Spalletti è intervenuto all'Associated Press e ha svelato la strategia tattica per superare i rossoneri, vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo. Il centrocampo è già fatto per il Milan, le ultime e Lobotka sarà uno dei titolarissimi della gara del Neazza. Il centrocampo è reparto blindato con lo Slovacco, Zilinski e Anguissa certi del posto dal primo minuto. Altrove ci sono dubbi per Spalletti. In attacco ad esempio tutto dipenderà dalle condizioni di Usimene Raspadori, virgola.